Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi voglio mostrarvi la mia skin care night routine con tutti i prodotti che sto scoprendo e che ho scoperto ultimamente e devo dire che sono veramente fantastici e ve li faccio vedere all'opera Ma iniziamo subito dallo struccaggio, quindi mi devo struccare ed è difficilissimo veramente togliere quell'eyeliner dell'essence E questa acqua micelare di Chloraine Devo dire che è buona, abbastanza buona Bisogna, diciamo, stare lì un po' più di tempo però strucca abbastanza bene anche se in questo video ho un occhio struccato e l'altro no perché non ho passato bene l'acqua micelare Questa acqua micelare è francese e l'ho comprata su un sito di cui vi lascio qui il link in descrizione Dopodiché per eliminare ancora di più il trucco vado ad utilizzare questo latte detergente di Amore per la pelle è un marchio assolutamente Made in Italy ed è un ottimo prodotto per struccare la pelle Ovviamente vado a lavare il viso col mio amatissimo detergente di Alchemilla che io adoro, lo utilizzo ormai da anni dopodiché vado ad applicare la lozione tonica sempre di Amore per la pelle e devo dire che è veramente ottima questi prodotti hanno dei profumi delicatissimi e molto piacevoli lo vado ad applicare con un po' di cotone sul viso in particolar modo dove ho i pori dilatati qui si vedono tantissimo mannaggia l'HD dopodiché vado ad applicare questo siero opacizzante con acido ialuronico e salicidico che dovrebbe appunto opacizzare la pelle va applicato prima della crema idratante applico il mio amatissimo contorno occhi è fantastico questo contorno occhi mi piace tanto infatti ne applico tanto 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 sotto il contorno dell'occhio perché mi piace tanto idrata bene, non appiccica crema idratante questa è anti-age però nonostante il fatto che sia anti-age rimane comunque bella, asciutta e non unge la pelle in particolar modo la mia che è grassa quindi devo stare attenta alle creme anti-age l'applico anche un bel po' sul collo esagero sul collo perché ho il collo molto molto secco la mia skin care night routine è finita questi sono gli step che faccio prima di andare a dormire spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su io vi mando un grosso bacio ci vediamo presto in un prossimo video ciao 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 ciao